e poi vediamo alcuni esempi. L'enunciato dice questo, sia f di x una funzione definita nell'intervallo i è derivabile in un punto c interno all'intervallo. Allora, se il punto c è un punto estremante della funzione f risulta in particolare f' di c uguale 0, cioè la derivata della funzione si annulla nei punti estremanti. Per dimostrare questo teorema facciamo uso delle ipotesi che sono scritte nell'enunciato. Precisamente supponiamo che c sia un punto estremante, ovvero un punto di massimo relativo o di minimo relativo. Supponiamo come facciamo a scrivere formalmente che il punto c è un punto di minimo relativo. Vuol dire che esiste un intorno, chiamiamolo u, del punto c, tale che prendendo un qualsiasi x appartenente a tale intorno risulta f di x maggiore o uguale f di c, cioè nei punti del dominio della funzione appartenenti a tale intorno, il valore della funzione non è mai inferiore al valore di f di c. In pratica all'interno di questo intorno la funzione ha un minimo assoluto e quindi nel suo dominio la funzione ha un minimo relativo. Grazie a questa ipotesi possiamo vedere cosa succede se applichiamo anche l'ipotesi di derivabilità. L'ipotesi di derivabilità ci dice che esiste finito il limite per h che tende a 0 del rapporto incrementale è f di c più h meno f di c fratto h. Chiamiamolo l appartenente ad r. Dal momento che stiamo calcolando il limite per h che tende a 0, possiamo limitarci a considerare valori di h che rendano valida questa condizione, c più h appartenente all'intorno di c. In sostanza l'ampiezza dell'intorno di c e l'ampiezza dell'intorno di 0 per quanto riguarda h si possono scegliere in modo compatibile. In questo modo per tutti i valori di h che noi andiamo a scegliere che soddisfino questa condizione, si ha anche che questi valori di h e i corrispondenti valori di c più h soddisfano questa condizione. Per cui possiamo scrivere che f di c più h risulta essere maggiore o uguale ad f di c. Di conseguenza se portiamo il secondo membro al primo membro cambiando lo disegno abbiamo f di c più h meno f di c maggiore o uguale a 0. Questo significa che per h maggiore di 0 il rapporto incrementale, cioè f di c più h meno f di c fratto h risulta essere maggiore o uguale a 0. Invece per h minore di 0 il rapporto incrementale risulta essere minore o uguale a 0. Visto che nel primo caso il denominatore non fa cambiare il segno della frazione e quindi il segno della frazione è determinato soltanto dal numeratore che sappiamo essere non negativo. Nel secondo caso h minore di 0 fa cambiare il segno della frazione e quindi risulta essere opposto rispetto al segno del solo numeratore che è maggiore o uguale a 0. Ora osserviamo una cosa. Il limite per h che tene a 0 di f di c più h meno f di c fratto h fa l. Supponiamo che l non sia 0, quindi ragioniamo per assurdo. Noi sappiamo che la tesi del teorema ci dice che l deve essere 0, ma supponiamo che non sia così. Se fosse l maggiore di 0, per il teorema della permanenza del segno dovrebbe esistere un intorno u' di 0 tale che per ogni h appartenente a tale intorno deve risultare f di c più h meno f di c fratto h strettamente maggiore di 0. D'altro canto ne abbiamo trovato invece che per h maggiore di 0 questa frazione, cioè il rapporto incrementale, è maggiore uguale a 0, mentre per h minore di 0 la frazione risulta essere non positiva. Di conseguenza un intorno come u' in corrispondenza del quale il rapporto incrementale risulta certamente positivo non può esistere. Per lo stesso motivo, se supponiamo che sia l minore di 0, per il teorema della permanenza del segno avremmo un intorno in cui invece il rapporto incrementale dovrebbe risultare strettamente negativo. E come abbiamo già osservato prima, tale intorno non può esistere, in quanto in ogni intorno di 0, per i valori di h, il rapporto incrementale risulta non negativo a destra di 0 e non positivo a sinistra di 0. Di conseguenza l'unica possibilità è che sia l uguale 0 e questo dimostra la tesi, cioè visto che l è il limite del rapporto incrementale sia f' di c uguale 0. Ovviamente ci siamo limitati al caso in cui la funzione ha un minimo relativo nel punto c, ma la dimostrazione nel caso in cui c fosse un punto estremante come massimo relativo è assolutamente analoga. Vediamo adesso alcuni esempi di applicazione di questo teorema e dei controesempi in cui facciamo vedere che l'inverso del teorema non è necessariamente vero. Come esempio di applicazione del teorema vediamo la seguente funzione. f di x uguale meno un quarto x al quadrato più 2x meno 2. Trattandosi di un polinomio di secondo grado sappiamo che questa funzione rappresenta una parabola. È noto che il vertice di questa parabola ha coordinata x, xv, che è data da meno b fratto 2a, dove b vale 2 e a vale, nel nostro caso, meno un quarto. Quindi meno b fratto 2a è pari a meno 2 fratto 2 volte per meno un quarto. 2 e 2 si semplifica e abbiamo meno per meno fa più esattamente 4. Quindi 4 è l'ascissa del punto in cui si ha il vertice. Trattandosi tra l'altro di un polinomio di secondo grado in cui il primo coefficiente è negativo, questa parabola ha il vertice che corrisponde a un massimo, in quanto la concavità della parabola è rivolta verso il basso. Per tracciare la parabola troviamo intanto l'ordinata del vertice che è pari a f di 4, y di v uguale a f di 4, cioè abbiamo sostituito l'ascissa del vertice nella funzione, ovvero meno un quarto per 4 al quadrato più 2 per 4 meno 2. Questo fa meno un quarto, beh, 4 al quadrato lo possiamo direttamente semplificare con il 4, quindi un quarto non lo riscriviamo e abbiamo così meno 4 più 8 meno 2 che è pari a 2. Quindi il vertice ha coordinate 4 e 2. A questo punto troviamo due punti disposti simmetricamente rispetto al vertice per vedere come disegnare la parabola, precisamente troviamo f di 0 e f di 8, visto che il vertice si trova alla scissa 4, prendiamo f di 0 ed f di 8 per avere due punti disposti simmetricamente rispetto al vertice. f di 0 è pari a meno 2, f di 8 è uguale a meno un quarto per 8 al quadrato più 2 per 8 meno 2, che è pari a 8 al quadrato, si può scrivere anche come 2 per 4 al quadrato oppure semplicemente eseguiamolo, 8 al quadrato fa 64 diviso 4 fa 16, quindi abbiamo meno 16 più 16 meno 2, che è uguale a meno 2 e come ce l'aspettavamo, vista la simmetria, meno 2 e meno 2 sono i valori che la funzione assume in due punti posti simmetricamente rispetto al vertice. A questo punto possiamo fare il disegno della parabola. Tracciamo gli assi cartesiani, utilizziamo la quadrettatura dello schermo per avere la nostra unità di misura, sappiamo che in corrispondenza di x uguale a 4 deve trovarsi il vertice, quindi il vertice si trova ad ascissa 4 e a ordinata 2, cioè qui. Inoltre f di 0 vale meno 2, quindi la parabola passa per questo punto ed f di 8 vale pure meno 2. La parabola quindi complessivamente passa da questo punto, questo punto e questo punto. La tracciamo approssimativamente. Per perfezionare il disegno potremmo trovare le intersezioni con gli assi, ma ai fini del nostro discorso non è indispensabile questo dettaglio. È invece importante vedere che questa funzione ha evidentemente un massimo assoluto e quindi anche relativo in corrispondenza del punto di ascissa 4 e di ordinata 2. Vediamo se effettivamente in base al teorema di Fermat in questo punto la derivata si annulla. Riprendiamo la funzione. Abbiamo f di x uguale meno un quarto x al quadrato più 2x meno 2. Calcolando la derivata, f primo di x, abbiamo la derivata del primo monomio. Si ottiene moltiplicando per 2 il coefficiente e abbassando di un grado il monomio, quindi abbiamo meno 2 quarti x più secondo monomio derivato ci dà 2. Il terzo monomio è una costante da 0. Quindi viene fuori un meno un mezzo x più 2. Osserviamo che tale derivata calcolata in x uguale 4 ci dà f primo di 4 uguale meno un mezzo per 4 più 2 uguale meno 2 più 2 che fa esattamente 0. Quindi il punto c in questo caso è il punto di ascissa 4 e in tale punto la derivata si annulla. Di conseguenza ricordiamoci questo significa anche che la funzione ha una retta tangente orizzontale in corrispondenza del punto estremante. E' un altro modo di vedere il teorema di Fermat. Dire che la derivata si annulla significa anche dire che la funzione ha in corrispondenza di tale punto una tangente orizzontale, visto che il coefficiente angolare della tangente è dato proprio dal valore della derivata. Vediamo adesso cosa succede quando non è soddisfatta qualcuna delle ipotesi del teorema. Supponiamo di prendere per esempio la seguente funzione, f di x uguale valore assoluto di x e prendiamo questa funzione nell'intervallo meno 1, 1. In tale intervallo la funzione ha evidentemente un minimo assoluto e relativo in corrispondenza di c uguale 0. Infatti f di 0 vale valore assoluto di 0 che fa 0. Se invece prendiamo x diverso da 0, certamente valore assoluto di x diverso da 0. Anzi in particolare valore assoluto di x in questo caso risulta essere strettamente maggiore di 0. Per cui l'unico caso in cui la funzione si annulla è quando prendiamo il punto c uguale 0. In tutti gli altri punti la funzione ha valore strettamente positivo, il che significa che 0 è un minimo assoluto per la funzione e nell'intervallo meno 1, 1 il punto c è interno all'intervallo. Ora se applicassimo il teorema di Fermat dovremmo concludere che risulti f' di 0 uguale 0. Ma c'è un problema. La funzione in c uguale 0 semplicemente se proviamo a calcolare il limite del rapporto incrementale per h che tene a 0, 0 più h meno 0 fratto h, dobbiamo qui tenere conto che il valore assoluto viene esplicitato in modo diverso a seconda che l'argomento dello stesso valore assoluto sia positivo o negativo. Quindi valore assoluto di 0 più h uguale valore assoluto di h è h se h è positivo e meno h se h è negativo. Questo porta a due valori diversi per il limite. In particolare il limite per h che tende a 0 da sinistra ci porta a un limite per h che tende a 0 da sinistra di meno h fratto h che fa meno 1. Mentre il limite per h che tende a 0 da destra del rapporto incrementale ci porta a un più h fratto h che fa 1. Quindi esistono le derivate sinistra e destra di questa funzione in c uguale 0, ma sono diverse, per cui la funzione non è derivabile. E quindi qui pretendere che la derivata faccia a 0 non ha proprio significato. D'altro canto se rappresentiamo graficamente questa funzione sappiamo che si tratta di un insieme di due semirrette, una corrispondente con la prima bisettrice, una corrispondente con la seconda bisettrice e qui è evidente che nel punto di ascissa a 0 non abbiamo un'unica tangente e questo corrisponde al fatto che la funzione non risulta derivabile. Quindi qui tra le ipotesi del teorema di Fermat manca la derivabilità e quindi non possiamo pretendere che la derivata che non c'è faccia 0. Vediamo un altro caso di funzione in cui viene a mancare una delle ipotesi del teorema di Fermat e vediamo che il teorema non risulta applicabile. Anziché scrivere direttamente l'espressione analitica della funzione la vediamo graficamente. Supponiamo che la funzione abbia il seguente grafico. Nell'intervallo tra a e b supponiamo che il grafico sia fatto in questo modo. Supponiamo che la funzione sia definita nell'intervallo chiuso a b, quindi estremi compresi. Il disegno ci suggerisce l'idea di una funzione continua. Per come è fatto il grafico nella funzione è evidente che in a la funzione ha un massimo assoluto, infatti qui abbiamo il valore più alto possibile per la funzione e in b invece la funzione ha un minimo assoluto, qui abbiamo il valore minimo possibile per la funzione nel suo dominio. Ora, qual è l'ipotesi che viene a mancare per il teorema di Fermat per quanto riguarda il punto a? Il fatto è che a non è interno all'intervallo a b, a è uno degli estremi dell'intervallo. Mentre invece se volessimo applicare il teorema di Fermat al punto b avremmo che b è l'estremo destro dell'intervallo a b, anche in questo caso b non appartiene all'intervallo aperto. Nelle ipotesi del teorema di Fermat il punto in cui viene applicato il teorema deve essere interno all'intervallo, né a né b sono punti interni. Ora osserviamo che dal grafico emerge subito che mentre nel punto a abbiamo una tangente orizzontale, di conseguenza questo significa che f' supponendo che la funzione sia derivabile f' di a è uguale a 0, nel punto b, che è un altro punto in cui la funzione ha un estremo, la tangente è evidentemente non orizzontale, per cui si ha f' di b diverso da 0. Quindi come vediamo a e b sono due punti che hanno lo stesso problema ai fini dell'applicabilità del teorema di Fermat, cioè entrambi non sono interni all'intervallo. Però, mentre nel primo caso la tangente è orizzontale e la derivata si annulla, nel secondo caso no. Cosa vuol dire? Il teorema di Fermat garantisce che se il punto è estremante, allora la derivata è 0. Quando le ipotesi del teorema di Fermat non ci sono, ma la derivata c'è, non è vietato che la derivata faccia 0, infatti per esempio nel punto a la derivata è 0, semplicemente il teorema non ne dà garanzia. Quindi ci possono essere punti come il punto a in cui la derivata si annulla e punti come il punto b in cui la derivata non si annulla affatto. Quindi il teorema dà una condizione sufficiente per l'annullarsi della derivata, cioè l'esistenza dei punti estremanti purché siano punti interni all'intervallo. Però, se queste condizioni non sono soddisfatte, la condizione sufficiente non c'è, allora potrebbe annullarsi la derivata come anche no. A questo punto vediamo un altro esempio in cui invece abbiamo l'annullamento della derivata, ma non c'è il punto estremante, cioè proviamo a dimostrare mediante un esempio che il teorema di Fermat non è invertibile. Precisamente prendiamo la funzione f di x uguale x alla terza. Tale funzione è continua e derivabile in R e la sua derivata f' di x vale 3x al quadrato. Questa derivata, se prendiamo il punto c uguale 0, si annulla in c, quindi f' di c risulta 0. D'altro canto risulta anche f di x minore di 0 se x è minore di 0 ed f di x maggiore di 0 se x è maggiore di 0. Quindi a sinistra dello 0 la funzione è negativa, a destra dello 0 la funzione è positiva, il che significa, dal momento che f di 0 vale 0 alla terza uguale a 0, significa che la funzione nel punto di ascissa 0 non ha un massimo e non ha un minimo, né relativo né assoluto. Infatti la funzione vale 0 nell'origine, ma a destra dell'origine la funzione è positiva e a sinistra dell'origine è negativa, quindi questo non è certamente né un massimo né un minimo per la funzione. Eppure la derivata si annulla, quindi non si può invertire il teorema di Fermat, cioè se la funzione è derivabile e la derivata fa 0 non è detto che in tale punto ci sia un estremo relativo. Invece il teorema di Fermat ci dice che se c'è un estremo relativo la derivata si annulla, quindi la presenza dell'estremo relativo implica che la derivata si annulli, mentre l'annullamento della derivata non implica necessariamente l'esistenza di un estremo relativo. Grazie.